e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono zenex e oggi signori siamo tornati su football manager 2020 prima di tutto vi ringrazio perché milioni e miliardi di complimenti sono piovuti su questa squadra e grazie al nostro mercato mio e vostro e di un po di tutti grazie i nomi che sono arrivati grazie al colpaccio lui suarez insomma tutti quanti entusiasti sono veramente molto molto contento prima di tuffarci come sempre nell'atmosfera di football manager vi ricordo che siamo live su twitch su youtube su entrambe le piattaforme adesso dal lunedì al venerdì dalle 21 che di iscrivervi al canale insomma tutti questi social che vedete ragazzi sapete benissimo cosa fare e intanto signori l'ultima si avevamo perso purtroppo con la roma e oggi signori andiamo vediamo a sfidare chi tra l'altro nello specifico andremo in casa contro il torino poi contro l'inter in trasferta e contro la fiorentina di nuovo in casa quindi due partite abbastanza abbordabili per quello che la nostra nuova rosa una certo abbastanza proibitiva invece in trasferta a san siro contro l'inter va bene ma noi come sempre ragazzi non abbiamo paura e andremo dritti verso l'obiettivo cercando di vincere contro tutto e tutti le prime due contro le big le abbiamo cannate siamo stati anche abbastanza sfortunati contro il napoli a dire la verità perché stavamo vincendo una zero poi ci hanno ribaltato la partita presente in dieci minuti ma va bene così ancora la squadra è giovane ancora la squadra deve trovare devo oliare quei meccanismi che ovviamente a causa dei quei giocatori nuovi si sono un po persi serve tempo ragazzi serve tempo e serve pazienza i giocatori ci sono la squadra è forte il modulo c'è quindi non possiamo fallere insomma quest'anno tra l'altro ragazzi per questione un attimo mi trovo con i tempi stretti oggi ne vedremo tre poi magari dal prossimo episodio ne vedremo di più fatemelo sapere comunque sempre nei commenti che avevo chiesto un'altra volta ma magari me l'ho confermata anche questa insomma intanto c'è la formazione siamo già pronti e già è fatta quindi andiamo avanti vediamo le due promozioni visto che voi non l'avete vista il catania scende con muric in porta gilberto bastoni che è in fesse ovic in difesa a bucciabacca core bellingham e h centrocampo montiel e suarez ovviamente lì davanti mentre il torino scende con vangia in porta a manafa bonifazi luperto e bolingoli in difesa fofana e screciu a centrocampo come mediani e poi verdi e colle sulle fasce squizzi a supporto di millico unica punta d'altro millico non ricordo se l'avevamo preso questa allora intanto scusate andando in campo cercate di impressionarmi dai e millico non ricordo l'avevamo presa in questa partita era nella mia partita privata scusate una mia piccola curiosità perdonatemi no era in questa partita millico quindi un ex 11 presenze con la maglia rossazzura due gol per il buon vincenzino dagli ragazzi forza istruzioni siate creativi subito un po di creatività mettiamo un po di pepe un po di sale in questa partita a 12 minuti c'è a bucciabacca adesso la mette subito in mezzo allontana la difesa e montiela va raccogliere core core la può provare dove l'ha buttata col si a buccia a bucciabaccuccio a bucciabaccuccio subito 1 a 0 dopo 12 minuti grande non si è capito bene dovrebbero capire alla sports interactive che questa telecamera che dà le spalle alla porta non si capisce in amazza quindi non si sa come mai nessuno gliel'abbia ancora detto comunque a bucciabacca ancora il corner la mette in mezzo su aretz il colpo di testa troppo centrale vangia va a fare suo il pallone la rilancia lunghissima la palla preta di kemp che la può poggiare tranquillamente a seovic adesso corre centralmente c'è bellingham tutti quanti pazzi per questo giocatore per il nostro nuovo regista colui che disegna il nostro calcio robinac fascia sinistra ancora in mezzo su aretz però non ci arriva il pistolero squizzi fa fanari parte il torino verdi buoni pazzi il lancio lunghissimo c'è colle attenzione il tiro grandissimo muric una grande parata o questo è un portirone signori abbiamo preso è grazie a voi tra l'altro e non ricordo che l'abbia detto muric io non lo conoscevo me l'avete detto voi quindi è vero che durante le live c'è stato qualcuno che ha detto qualche nome un po fuori portata del catania però qualche nome corretto qualche nome proprio ad hoc per noi c'è stato intanto signori finisce il primo tempo va benissimo così per adesso energico non vi rilassate perché troppe volte è successo che abbiamo perso punti preziosissimi a causa di errori che si potevano evitare assolutamente e ancora adesso il catania c'è gilberto montiel gilberto verso core centralmente bellingham il lancio verso ac ma che passaggio mamma mia se avvic ancora in mezzo gilberto gilberto bellingham il tiro la bomba che però viene ribattuta attenzione con un colpo di fortuna parte il contropiede del torino verdi il tiro vabbè niente da fare assolutamente fuori misura la conclusione di verdi andiamo a domandare di più la squadra adesso perché non voglio che i ragazzi abbassino la guardia facciamo anche qualche cambio mettiamo xadas per bucciabacca si che abbastanza stanco lo stesso vale per 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 bellingham d'accordo mettiamo magari il buon palaversa ok per adesso ragazzi un cambio come sempre ce lo danni ce lo teniamo di riserva ci sarebbe anche gilberto da sostituire anderemo magari a metter somma sì 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 eccolo qua il buon somma leviamo gilberto perché stanchissimo deve comunque ci serve sempre qualcuno di fresco toffo montieri anche infortunato mannaggia non me ne sono accorto comunque resta in campo bastoni attenzione la per favore murici il lancio lunghissimo e però la palla preda di squizzi il torino attenzione tuttino il tiro e non ci arriva murici che te pare no grande ok aspetta aspetta allora ne approfittiamo mancano cinque minuti ragazzi perdita di tempo qua siamo stati fortunati per una volta e vabbè o raga ma sempre sfiga è qualche volta la ruota può anche girare dalla nostra parte mancano quattro minuti mancano quattro minuti due tre e dai e quattro minuti basta o è finita grande vittoria dai perfetto parola squadra energico ben fatto ben fatto potremmo far di meglio secondo me ma va benissimo così sono sempre tre punti o 8 a 0 1 a 0 ragazzi sono sempre tre punti toffo montieri è infortunato per otto giorni bucciabacca splendido noi li elogiamo tutti ragazzi creiamo andiamo a creare un po con l'amalgama quell'atmosfera quell'entusiasmo di squadra che c'è mancato parecchio lo scorso anno è stato proprio il nostro punto debole quindi quest'anno cerchiamo di non ripetere anzi cerchiamo di imparare appunto dagli errori fatti l'anno scorso per andare subito a puntare a quell'europa che manca 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 come un macigno alla nostra carriera allora siamo pronti alla partita contro l'inter su arts ragazzi lo vorrei come centravanti stavolta toffol montiel lo mettiamo al posto di vediamo a bucciabacca magari si iota lo lasciamo qua sulla fascia come ala invertita va benissimo poi direi a livello fisico signori vediamo se c'è qualche cambio da fare ci sarebbe se ci mettiamo a rega visto che è un po stanco il buon seo e ci può ai bastoni gilberto è da togliere assolutamente ma è ancora fuori gioco può tornare non mettiamo somma dai mettiamo somma magari abbassiamo un attimo i terzini di supporto le mettiamo visto che siamo a stanziero contro l'inter e cerchiamo di non fare lo stesso errore fatto con la roma e per il resto ragazzi direi che è fatta andiamo toffol montiel ovviamente non può stare in panchina perché è infortunato mettiamo questo pedro diaz ad esempio e non è male pedro diaz secondo me potrebbe andare a fare il vice bellingham bayern 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 non è ancora tra di noi va bene dai andiamo ok purtroppo fisicamente siamo un po giù e la squadra avversaria ovviamente non è quella delle più semplici comunque l'inter appunto si presenta con simeone grande unità in panchina areola in porta 4-4-2 lirola screenier daier e bernat in difesa correa barella ducure e smith rowe in a centrocampo salcedo e areso lì davanti su arezzo contro tutti invece per noi allora aggressivo no energico non abbiamo i favori del pronostico ma andiamo là fuori sorprendiamoli vabbè vediamo un po che succede sono curioso correa attenzione l'inter in avanti subito c'è salsedo che però la spara troppo alta sopra la traversa nulla da fare il catania adesso in possesso palla c'è somma sulla fascia destra buccia bacca centralmente c'è bellingham il lancio perfetto ma che visione di gioco ha bellingham peccato che robinac non ne approfitti però ragazzi gli aveva fatto un passaggio proprio illuminante neanche l'andrepirlo dei migliori tempi grandissimo mazzo 4 ammoniti intanto per il catania questo sarà un bel problema adesso smith rowe in mezzo salcedo che parato no non l'aveva parata che cosa ha fatto qua murice ci ha provato ci ha provato il buon murice sfortunati qua sfortunati siate creativi anche se purtroppo è l'impegno è quello che è finisce il primo tempo ragazzi non abbiamo demeritato assolutamente andiamo adesso di aggressivo andiamo anche di vendetta cerchiamo di instaurare un po un sentimento vendicativo all'interno della psicologia dei nostri giocatori vediamo chi è attenzione l'inter c'è smith rowe la va a battere di punizione a murice grandissima la parata di murice bravo bravo peccato è stato sfortunato in quell'occasione dell'autogol andremo adesso a cambiare regalo qualcuno degli ammoniti perché questa partita la vedo proprio in 10 a bucciabacca dalla banderina attenzione l'inter adesso riparte il contropiede che te pare o non si può fare mai un'azione quando si incontrano le big non si può fare un'azione incredibile salcedo il tiro murice direttamente gliel'ha accompagnata tra i guantoni murice proprio lui vediamo un po con le mani direttamente verso belling bravo sfida i piedi buoni belling mi lancio stavolta è sbagliato du curella appoggia per nale sulla fascia sinistra il lancio lunghissimo migliore di quello di bellingham il tiro di salsedo e l'inter va a raddoppio invece no perché l'arbitro dice che era fuori gioco per stavolta stranamente stanno favorendo noi a livello di fuori giochi mattia viviani entra per core leviamo anche robinac mettiamo riccardo sottil si 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 mi sento un bel sottil a buccebacca ancora la bandierina non c'è mai nessuno bellingham viviani te prego kenf non la perdiamo a buccebacca ancora pronto al contro cross niente c'è kenf si appoggia lì indietro per rega bellingham viviani ancora verso arcadius rega ancora per kenf e addirittura torniamo a muda muric ripartiamo va bene ripartiamo bastoni insomma non è il suo ruolo preferito bastoni bellingham qualcuno che scatti qualcuno si faccia luis no che grande parata mazza che parata che ha fatto contro luis il portiere qua buccebacca dal corner ancora in mezzo allontana ovviamente la difesa attenzione perché potrebbe partire addirittura incontro vede stefano sensi salsedo all'indietro ancora per bernama c'era sensi che era rimasto a terra ottantesimo ragazzi proviamo le due punte proviamo sebastian esposito ragazzi e togliamo bellingham che era più stanco viviani va a fare il centrocampista di quantità lui da solo contro tutti ci proviamo signori ci proviamo dai andate avanti ma mancano quattro minuti e niente non c'è più tempo forse attenzione somma l'ultima azione iota iota corri bernata attenzione sensi no niente dell'inter anche questa forse dell'inzi e dell'inter ha reso il tiro grandissimo chi sei chi sei vabbè non si sa ma un grande intervento difensivo credo fosse camp niente ragazzi perdiamo 1 a 0 non demeritando però purtroppo ancora non sono felice qua del risultato glielo andiamo a dire purtroppo rivedo come visto sia con il napoli che con la roma non siamo ancora pronti per andare a sfidare con pagini del genere e siamo stati sfortunati l'inter l'ha spuntata grazie a un autogol del portiere poi non abbiamo rischiato neanche chissà quanto ma adesso andiamo ragazzi a vedere la partita contro il deleritto la deleritta anzi fiorentina che ne ha perso i 5 poverini 10 gol subiti 0 fatti 0 punti insomma un disastro per i viola siamo pronti a sfidare la fiorentina core è squalificato quindi andrà il buon viviani a fare il centrocampista di quantità bellingham è altrettanto infortunato quindi andrà come detto pedro diaz andrà ad esordire credo che sia l'esordio totale per diaz mentre robinac si va a riposare un po mettiamo a sottile visto che è anche un ex mbagliè per somma che torna jota va bene a livello fisico siamo tutto a posto un paio di diffidati però vabbè a parte questo core aspetta lo dobbiamo togliere mettiamo al buon somma e toffol montiel potrebbe tornare al posto adesso allora leviamo a jota e mettiamo a bucciabacca a destra e montiel centrale di jota lo mettiamo al posto del buon palaversa e se uc per reca ci siamo signori d'accordo pronti a sfidare la fiorentina però aspetta 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 torniamo con i terzini in attacco come nostra tradizione perché la miglior difesa all'attacco confermiamo la formazione e andiamo va allora vediamo questo disastro fiorentina che guardando i nomi non riesco a capire come sia possibile che abbia fatto zero gol visto che hanno anche a ubame young 34 anni comunque sempre mazza lentissimo ormai diventato comunque va bene cranio in porta con un 4 1 2 3 nasce un gnagnon gabriel jesus e biraghi in difesa william mediano castroville pulgar centrocampo promessa obame young e arcadius milic là davanti ecco forse il difetto di questa squadra è che l'età media è un po troppo alta allora aggressivo appassionato forza ragazzi mostratemi quello che sapete fare andiamo subito il catania in avanti c'è in baglie verso montiel che prova il dribbling ma biraghi fa sul pallone però bastoni la va a recuperare centralmente c'è kemf siamo altissimi kemf ancora per bastoni cerca l'imbucata si appoggia addirittura a muric ricominciamo dal portiere come sempre come nostra tradizione bastoni ancora verso muric senza rischiare attenzione al pressing adesso dei viole per favore kemf verso pedro diaz vede seovic seovic avanza seovic c'è sottile 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 dagliela sottile pedro diaz il tiro giro che non gira abbastanza però la palla finisce di pochissimo al lato proprio sibila il palo la il buon pallone gnagnon adesso nasce la fiorentina vediamo se riuscirà a trovare il primo gol so sicuro che lo farà promise verso gabriel jesus biraghi a obame young fascia sinistra ovviamente non ha più le qualità fisiche di un tempo a obame young il catania riesce a rispazzarla ma c'è william vediamo se riusciamo a partire a obame young biraghi se la prendessimo sta palla non sarebbe male no c'è milic invece pulgar william la prendiamo sì c'è viviani che fa ripartire l'azione e no niente suarez sbaglia l'appoggio milic a obame young il tiro e c'è la parata di muric dopo otto minuti già la partita si è accesa mostrate subito un po di grinta per favore ragazzi la palla in mezzo la rilanciamo lontano william la raccoglie contro montiel l'orso toffolo va a commettere fallo ma credo che non ci sia più nulla da fare ok 42 43 44 eccolo qua fine primo tempo una partita abbastanza e fioca diciamo molto spenta a parte le prime due azioni nei primi 15 minuti poi non è successo assolutamente nulla quindi non sono felice della prestazione ragazzi iniziamoci a svegliare un po perché se no non vorrei anche né pareggiare neanche addirittura perdere contro la straultima in classifica mostrate subito un po di grinta attenzione c'è catania adesso con montiel la mette in mezzo mancano i gollo del pistolero promes riparte addirittura adesso la fiorentina incontro pieta obama young faccia sinistra in mezzo castrovilli la prende grandissimo ma insomma che portiera abbiamo ragazzi è un mostro ma chi è spider man ancora catania è sempre là che però non riesce ad affondare ma io vediamo stavolta suarez il pistolero non trova lo specchio allora andiamo a fare due cambi va mettiamo bellingham come attaccante di supporto stavolta lo voglio provare visto che montiel comunque è un po stanco e sessantesimo ok gilberto lo proviamo per a bucciabacca e scambiamo un baglie con gilberto ok suarez palcio di punizione ma che gol ha fatto luiz o queste i ragazzi sono le cose che ci sono mancate l'anno scorso ovvero il guizzo del campione che magari sembra dormiente per tutta la partita sembra che sta là a passeggiare non fa niente è una mazza invece poi è tetto esce dal cilindro il colpo di magia e suarez porta in avanti il catania quando siamo all'ottantesimo facciamo l'ultimo cambio vediamo chi ha più bisogno di essere cambiato sottile che sta giocando un po' uno schifo in realtà mettiamo aiota 650 come voto per sottile il peggiore dei suoi mi sa 86 87 attenzione c'è un'azione importante quando mancano tre minuti alla fine della partita vediamo se riusciamo a resistere william per sergio gabriel jesus fascia sinistra centralmente c'è non sono l'ho letto promesse attenzione sulla fascia destra milic che che te pare ma porca miseria vabbè del resto dovevano pur fare il primo punto contro di noi ci buttiamo adesso molto offensiva istruzione avversario no questo l'ho sbagliato mi scusi vuole annullare modifiche si istruzioni squadra per dire ok ci siamo vabbè molto offensiva più di così niente signori finisce questa partita abbastanza deludente il risultato devo dire quindi parla la squadra aggressivo c'è tanto lavoro da fare ancora c'è tanta c'è tanta fluidità che dobbiamo andare a trovare diaz debutta con il catania suarez splendido vabbè andiamo ad elogiare almeno lui suarez va bene allora vediamo un po da che punto siamo adesso in classifica siamo a meno 3 adesso dalla zona europa quindi ci stiamo allontanando leggermente non non mi piace non mi piace preferisco essere più vicino ovviamente quindi dobbiamo iniziare subito a trovare una certa continuità l'affiatamento squadra eccolo qua è medio stiamo ancora costruendolo questa fiatamento squadra serve serve tempo signori l'atmosfera sta calando un po 20 a causa di questi risultati non dico che sono scadenti però ovviamente ci si aspettava un po di più almeno una vittoria in casa con la fiorentina ultima e ce l'aspettavamo il prossimo episodio invece andremo a vedere l'atalanta bologna e sassuolo quindi saremo presenti in due trasferte poi il sassuolo in casa vediamo dove sono i atlanta bologna e sassuolo che si trovano rispettivamente terz'ultima il bologna è a 9 punti e il sassuolo invece è avanti a noi di due punti quindi il prossimo episodio sarà fondamentale diciamo poi vedremo se faremo anche più di tre partite magari lo vedremo lo vedremo cari ragazzi intanto per questo episodio è tutto fatemi sapere la vostra ovviamente qua sotto nei commenti lasciate un bel like ragazzi iscrivetevi tutti questi bei social che avete visto scorrere in questo banner multimediale e noi signori ci vediamo sempre domani con dei nuovi video ciao